L'ufficialità è arrivata ieri sul sito della Juventus, Maurizio Sari è il nuovo allenatore della vecchia signora. Sari, che lascia il Chelsea dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, l'Europa League, chiude così su un passato fatto anche di contrasti e frizioni con la stessa Juventus, che guiderà fino al 2022. Ma la scelta, oltre a dividere gli stessi tifosi juventini, tra chi applaude il suo arrivo e chi esprime il proprio disappunto, lascia a bocca amare anche i fan del Napoli, che l'allenatore ha guidato dal 2015 per tre anni ai vertici della classifica per ben due volte seconda proprio alle spalle della vecchia signora. Un dibattito infuocato con accuse di tradimento e la promessa di Fischi non appena sale di rimetterà piedi allo stadio San Paolo. Quelli partenopei non sono i soli cuori infranti del calcio, anche i romanisti tra rabbia e delusione piangono l'addio, il secondo dopo quello dal calcio giocato dell'ex capitana e leggendaria bandiera giallarossa Francesco Totti, che proprio oggi spiegherà ai giornalisti i motivi che lo spingono a lasciare dopo 30 anni l'amata squadra, con il clima nella società e nel rapporto tra la stessa Roma e i tifosi, che rischia di diventare ancora più rovente.